segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te oggi è stata una giornata importantissima per la prima volta ha incontrato in vaticano il promotore di giustizia diddi che ha riaperto l'inchiesta su emanuella ci racconta è stato un incontro lungo a positivo sono andata alle tre ho finito poco fa però ho percepito la volontà a fare chiarezza lo stesso diddi mi ha detto io ho avuto mandato dal segretario di stato e da papa francesco di fare chiarezza al 100 per cento indagare a 360 gradi e non fare sconti a nessuno dalla base al vertice quello per me già è una cosa positiva perché io poi ho raccontato tutte le cose che qui avevo accennato le cose che avrei voluto portare quindi lì ho potuto verbalizzare nomi cognomi di tutte le indagini fatte privatamente insieme all'avvocato e lui mi ha assicurato che le indagini andranno avanti sicuramente fino alla fine anche perché sono cominciate da parecchio tempo non sono iniziate te non sei il primo che ascoltiamo loro già hanno ascoltato diverse persone hanno già dei documenti su cui lavorare ha detto certo che ci hai aperto dei mondi nuovi con le cose che ci racconti lei cosa gli ha detto io che sono contento di questa cosa gli ho detto che io proprio come sono contento del fatto che lui abbia detto che non farà sconti a nessuno ecco perché lei ha fatto proprio una battaglia anche del fatto che il vaticano si aprisse a questa indagine che andasse indagare e se lei dovesse riassumere in pochi punti il quadro che ha tratteggiato dal suo punto di vista che quadro ha tratteggiato che ci sono quello che ho sempre detto che sicuramente ci sono delle responsabilità interne al vaticano ho ribadito il fatto che sono convinto che giovanni paolo secondo ratzinger e francesco siano a conoscenza di quello che è avvenuto e forse c'è stato un cambiamento nella volontà e hanno deciso magari di fare di fare chiarezza mi hanno assicurato che non c'è nessuna coincidenza con i funerali di ratzinger proprio perché loro già da diversi mesi e hanno ascoltato delle persone stanno andando avanti stanno lavorando su molte su molte cose però quello che gli ho raccontato è veramente non ho fatto sconti a nessuno neanche io perché dalla questione legata a capaldo che è la questione reputo più importante la questione di londra di cui abbiamo parlato altra volta dei dei racconti del gendarme dei famosi quattro cardinali per far capire che in vaticano la pedofilia nell'ottanta tre era accettata e quindi è una cosa su cui indagare ecco lei è la cosa su cui indagare è la cosa su cui indagare è la cosa su cui indagare è il